Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale. Andiamo ad approfondire subito quelle che sono le notizie più importanti dal nostro territorio. Iniziamo dalla cronaca. Si stava facendo il bagno nelle acque del lago di Castel Gandolfo, un ragazzo di 35 anni di origine irachena, quando probabilmente colto da un malore è annegato praticamente davanti agli occhi dei suoi amici, che non sono riusciti a intervenire in tempo per aiutarlo a riemergere. Immediatamente sono intervenuti i bagnini dello stabilimento balneare e hanno tirato sul 35enne su un pedalò, portandolo subito in spiaggia dove c'erano anche alcuni medici e infermieri in vacanza che hanno praticato i primi soccorsi, anche se il ragazzo non ha dato segni di vita. I sanitari del 118 sopraggiunti hanno continuato per circa un'ora a fare le manovre di rianimazione al giovane, usando anche un difibrillatore e riuscendo a far riprendere il battito cardiaco. Quindi è stato disposto il trasferimento nell'ambulanza al Policlinico Gemelli in condizioni comunque gravissime. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Flurari, Carabiniere e la Polizia Locale di Castel Gandolfo. Proseguiamo con la cronaca e andiamo nel capoluogo Pontino. La squadra volante in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale del GIP di Latina ha tratto in arresto un 19enne pregiudicato per i reati di stalking e lesioni personali aggravati. In particolare il giovane con condotte reiterate, moleste e minacciose ingereva in suo coetaneo un perdurante stato d'ansia e di paura e un fondato di morire per la propria incolumità, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita. Inoltre il 19enne in diverse circostanze ha aggredito fisicamente colui, il ragazzo che riteneva un rivare a partire dal mese di novembre 2021 e da ultimo il 14 luglio 2022 quando gli ha causato gravi lesioni personali. Stop alle autobotti di acqua potabile a Villaggio Ardiatino. Torniamo in provincia di Roma, dalla mattinata del 5 agosto i residenti di Villaggio Ardiatino privi da sempre di rete idriche e fognature pubbliche in possibilità di avere acqua dei pozzi privati inquinati dalla discarica sono senza acqua potabile. Negli ultimi mesi e nei giorni precedenti il rifornimento idrico potabile veniva garantito con autobotti alle decine di famiglie che non si possono permettere di spendere migliaia di euro per depurare l'acqua dei pozzi. È semplicemente indecente che il nuovo sindaco di Ardiat, dopo aver promesso che avrebbe mantenuto il rifornimento almeno fino a ottobre davanti a 30 residenti dei villaggi, abbia invece fatto chiudere i rubinetti senza alcun peravviso. Spiega il coordinamento dei residenti. Intanto è altrettanto indecente che qualche arrogante consigliere della nuova giunta non perda occasione per minimizzare il numero delle famiglie interessate all'acqua preoccupandosi più del costo del servizio che del dovere di assicurare a quelle famiglie la continuità di fruizione di questo bene primario ed essenziale conclude la noda dei residenti. Torniamo ad Anzio. Il prossimo giovedì ci sarà l'inaugurazione alle 10.30 del nuovo palasport della città di Anzio che sarà intitolato al campionanziato Giulio Rinaldi, istituito ed ultimato dall'amministrazione guidata dal sindaco candido De Angelis con il positivo contributo del delegato allo sport massimiliano Millaci. Il palazzetto è predisposto per ospitare mille spettatori comodamente seduti da un'area interna di 4.000 metri quadri e un arraparcheggio di 5.000 metri quadri, un impianto sportivo dotato di spogliatoi, servizi igienici, sala pronto soccorso, sala informazioni, atrio ad osio esclusivo degli atleti con un'area contigua per esercizi di riscaldamento, uffici, magazzino, bagni per l'utenza, biglietterie, campo da gioco polifunzionale. Dal 12 agosto quindi il palazzetto sarà a disposizione delle associazioni sportive del territorio pallavolo, basket, calcio a 5, ginnastica ritmica e pattinaggio artistico. Parliamo dell'Open Fibre, siamo sempre ad Anzio, è già disponibile la fibra ottica targata Open Fibre. Sono oltre 5.000 le unità immobiliari ad Anzio pronte che navigano sul web beneficiando di una velocità connessa fino ai 10.000 gigabit. Quindi Open Fibre raggiunge oltre 17.000 tra case e negozi uffici sul territorio grazie alla rete Fibre. Andiamo a vedere collaborazione tra Academy Cisterna e Latina Calcio. Nasce così il Cisterna Calcio. Parliamo di sport. Fiocco Celesti in auta consigliare per celebrare il battesimo della società Cisterna Calcio. La nuova realtà sportiva cisternese è frutto della collaborazione dell'Accademy Cisterna con in Latina il presidente Barbera Restante, mentre vice Antonello De Miglia, entrambi cisternesi. La presentazione è avvenuta con la conferenza stampa, con partecipato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l'assessore allo sport Emanuele Pagnanelli, il vice presidente dell'ex Accademy Cisterna, ora Cisterna Calcio, Antonello De Miglia, il dirigente dell'Atina Calcio, Vincenzo Terracciano. E questa per oggi è l'ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rimando ai prossimi appuntamenti sempre su Canale 81.